segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te lo corte suprema c'è allora intanto anche tu sei un servo del padrone perché limes il tuo mensile che va peraltro a gonfie vele insieme alla tua scuola di limes fate parte del gruppo c'è un problema di questa presidente del consiglio con il giornalismo critico perché diciamo che adesso bocchino usa il termine sbel repubblica sbertuccia tutti i giorni non mi sembra che stiano sbertucciando ma diciamo il giornalismo critico ha diritto di cittadinanza in un paese democratico o no il giornalismo deve essere critico altrimenti faremo altri mestieri cioè deve avere un approccio critico alla realtà non è che deve stare per forza con questo con quello ma deve descrivere i fatti in maniera critica cosa che normalmente un politico specialmente sa il potere non fa perché altrimenti si sparerebbe sui piedi però un politico deve rendere conto all'opinione pubblica e quindi a un corpo intermedio come la libera stampa sono poi lettori che ci daranno i voti certamente non il presidente del consiglio ma temo che purtroppo la cosa sia leggermente diciamo di livello un po' più basso nel senso che alzare questi polveroni e cominciare a prendersela con la stampa con i media che poi insomma ce ne sono di tutti i tipi vuol dire che non hai molto da dire sulle cose concrete e questo è un po' il punto cioè noi siamo un paese oggettivamente in difficoltà inutile che tiriamo fuori chissà quale statistica se andiamo a vedere come siamo messi oggi nel contesto anche geopolitico siamo messi notevolmente male e ci aspettano momenti molto duri specialmente con la ripresa dell'austerità che sarà una mazzata micidiale poi adesso abbiamo aggiunto anche questa storia delle autonomie regionali cioè un paese che di tutto ha bisogno forché di disperdere ancora il potere siamo messi in una situazione che è oggettivamente difficile non per colpa della Meloni di qualcun altro perché le cose stanno così e la Meloni se la prende con i giornalisti poi c'è un altro punto che anche se un giornalista oggi volesse servire un padrone avrebbe difficoltà ma non perché lui non voglia magari ma semplicemente perché vorrei capire chi sono oggi padroni davvero in Italia abbiamo una scarsità di padroni quindi anche il più servile dei servi trova difficoltà a trovare un padrone a dici perché dici che perché vogliamo dire la Meloni è presidente del consiglio ma non credo che sia la padrona dell'Italia no e più in generale il potere è molto diffuso in Italia quindi praticamente non c'è della Rai Grazie.